Ciao sono la Vale e oggi vesto Pinco e volevo ringraziarvi perché avete scritto in tantissimi per il trespolo per cercare di conquistarmi, avete scritto in tanti a pinocchioetdj.it potete farlo ancora, mi raccomando indicate il numero di telefono altrimenti non possiamo ricontattarvi e mi raccomando ricordatevi che sto cercando marito quindi a stendersi per di tempo Ciao, grazie Per favore qualcuno mette la Vale in un angolo, grazie